Ho deciso che è il momento di scendere in campo, credo di aver fatto una cosa giusta, ho fatto il sindaco per dieci anni, credo che devo finire ancora un certo lavoro, ho le idee abbastanza chiare, mi fa piacere di candidarmi. Oggi la Lega chiede che sia lei invece a sostenere un altro candidato, questo dice la Lega in un comunicato, come vanno? Ognuno dice le cose che pensa, la mia porta è aperta, io mi sono candidato e la mia porta è aperta, chi vuole entra nella mia porta, chi non vuole ne sta fuori, è una semplicità incredibile. Lei andrà fino alla fine comunque, intendiamoci questo, andrà avanti dritto? Sì, ma guardate che nella vita c'è chi vince, c'è chi perde, io per fortuna ho sempre avuto la capacità di vincere, sia a Mugia, sia nel 2001 contro Pacorini, nel 2006 contro Rosato, spero di vincere anche questa volta. Il problema è anche politico, se noi vinciamo Trieste vuol dire cambiare un po' le sorti della regione e di un percorso politico, o lo capite o non lo capite, se non avete capito entrate da quella porta. Ma Roberto abbiamo aperto la porta a maggio, scusa? Sì, ma di fatti siamo a settembre, le elezioni sono a maggio del prossimo anno, abbiamo tutto il tempo credo per incontrarci, per fare le cose che dobbiamo fare, io sono ottimista.